quest'oggi andiamo a vedere quello che è il risultato della nostra giornata operativa anche se abbiamo operato molto poco per mancanza di tempo andiamo a generare risultati 557 euro in giusto meno di un'ora per come dicevo poca disponibilità di tempo dato chiaramente anche gli impegni comunque un buon risultato per quello che riguarda un'operatività volume master intraday ripeto che tutte queste metodologie si possono applicare anche per il multi day e per tutti i mercati se sei interessato a saperne di più lascia i tuoi dati alla mail che trovi in descrizione a presto